L'incontro non è tra me e Gentiloni domani, l'incontro è stato stabilito su un'intesa tra me e Gentiloni domani ai massimi livelli con il comune rappresentato appunto dall'avvocatura, dal ragioniere, dal direttore generale, dal capo di gabinetto e dai vertici di Palazzo Chigi, il segretario di Palazzo Chigi, il gabinetto di Gentiloni, la segreteria di Gentiloni, quindi è l'incontro al massimo livello tecnico e l'input politico mio e del Presidente del Consiglio è di chiudere domani, quindi noi siamo assolutamente fiduciosi perché l'accordo tecnico si è già trovato e il tavolo di domani è il tavolo tecnico che ha ricevuto, da come ha avuto assicurazioni dal Presidente del Consiglio, l'input politico per chiudere. Quindi io sono fiducioso perché il Presidente del Consiglio è una persona corretta sul piano istituzionale, abbiamo lavorato in questo anno complessivamente bene insieme e domani potrebbe essere un ulteriore conferma che la cooperazione istituzionale dal gennaio 2017 fino ad oggi è stata proficua con il governo. Certo ci hanno fatto attendere tanto, ci hanno fatto penare, ci hanno fatto soffrire, però mi auguro che domani si chiuda almeno la fase del tema del pignoramento, quello che tiene bloccato la Cassa e quindi del riconoscimento del debito da parte dello Stato.